Matteo Piano purtroppo quest'Italia questa sera ha ceduto alla Francia con l'onore delle armi comunque Ha ceduto a una squadra che è stata attaccata a tutta la partita in un momento di buio però con un'intensità alta Senti comunque a un certo punto avete reagito bene c'è stato un po' un blackout nel terzo set a un certo punto avete subito un break adesso forse le analisi non è che servono molto No guarda, c'è una tua voglia di fare analisi ma ogni tanto eravamo vicini qualche punto sotto ma non abbiamo giocato magari libri e l'abbiamo sempre ripresa, sempre stati di essere una partita veramente per tanti momenti molto vicina un po' sotto noi, un po' sotto loro ci hanno pesato tanto alcune cose Ora guardiamo avanti c'è la Turchia negli ottavi di finale C'è la Turchia per la seconda volta che anche l'ultimo europeo abbiamo beccato la Turchia dobbiamo essere ben focalizzati perché sicuramente giocheranno tutte le Eurocalde per andare avanti in questo europeo pieno di grandi e belle squadre quindi di belle partite da giocare E soprattutto iniziano i partiti da dentro fuori adesso Eh sì, quindi la fase si fa sempre più divertente e stimolante Grazie, ciao Grazie a tutti